Ricevuta a Palazzo Laskris una delegazione italo-russa composta da reduci di guerra di San Pietroburgo e da Alpine dell'Ana, sezione della Valsesia. Le due associazioni d'arma sono gemellate e la visita degli ex combattenti russi ha contraccambiato l'analoga dell'aprile scorso a San Pietroburgo degli Alpini Valsesiani quando venne firmato l'accordo di gemellaggio.